Sono state due giornate di full immersion che ci fanno capire che la parola d'obbligo per il consulente aziendale è distinguersi per non estinguersi, proprio perché in una società imprenditoriale abbastanza evoluta ormai l'imprenditore cerca di servizi di alto valore aggiunto e quindi il consulente aziendale deve passare dal solito fiscalista e quindi consegnare l'F24 a fine mese a fornire dei servizi di alto valore aggiunto come consulenza di risanamento aziendale o controllo di gestione. Il clima che si respira in questo network è abbastanza unito proprio perché si cerca di apprendere più conoscenze da più colleghi e quindi in un'economia della conoscenza ormai è condizione necessaria a fare network, fare sistema per apprendere sempre più conoscenze e senz'altro un evento formativo utile, sicuramente ne farò altri, insomma il commento finale è abbastanza positivo.